Allora, guarda qui, i tre colori sul cuore, i sindaci uniscono l'Italia, si è aperta ieri la quarantesima assemblea annuale del Lanci a Genova. Il nostro Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, accolto da un lungo e caloroso applauso, e poi il Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, ha inviato un videomessaggio dove ha sottolineato ancora una volta l'importanza dei comuni per il PNRR con 40 miliardi di interventi. Allora, a questo punto noi andiamo proprio a Genova, dove vediamo collegati per noi Carlo Salvemini, Sindaco di Lecce, insieme al Sindaco di Treviso, Mario Conte. Buongiorno, benvenuti. Allora, parto da lei, Sindaco Salvemini. Il Presidente Mattarella e successivamente, come ho detto prima, anche la Presidente Meloni hanno ricordato l'importanza dei sindaci, in quanto voi siete il primo motore su cui puntare, proprio per superare i vari squilibri, la disparità, assicurare anche la coesione, l'unità. È proprio così? Sì, il Presidente Mattarella ha ricordato il valore della figura dei sindaci definiti per consuetudine ormai acquisita istituzioni di prossimità, quelle più vicine alla cittadinanza, il riferimento immediato verso quale rivolgersi per qualunque richiesta. La sua presenza ogni anno all'Assemblea Nazionale dell'Anci conferma l'attenzione che si rivolge al nostro prezioso lavoro. Il Presidente De Caron è il rappresentante più autorevole. Credo che sia ormai acquisita questa consapevolezza. Io ricordo le parole con le quali Papa Francesco ci accolse al Vaticano, nel sottolineare l'importanza del nostro compito. Ci disse che i sindaci devono coltivare la virtù della prudenza per saper governare, la virtù del coraggio per andare avanti e la virtù della tenerezza per incontrare i più deboli. Ecco, questo riassume il senso, credo, profondo del nostro compito. Dobbiamo dire che il ruolo del sindaco non è stato e non è sicuramente semplicissimo. Sindaco Conte, vengo da lei, sindaco di Treviso. Nella giornata, invece, questo pomeriggio sarà dedicata alla digitalizzazione. Noi anche qui in studio ne parliamo spesso, proprio per i comuni. Un tema che è veramente centrale per lo sviluppo delle nostre città, guardando proprio il futuro. Assolutamente sì. Digitalizzare significa sburocratizzare, significa accorciare i tempi delle procedure, significa migliorare la qualità di vita dei nostri cittadini. Ovviamente per noi sindaci questa è una doppia sfida, perché se da una parte vogliamo digitalizzare, dall'altra in contemporanea chiediamo anche che ci sia la possibilità di avere un turnover adeguato a quelle che sono poi le esigenze di un nuovo ente più digitale e meno cartaceo. È una sfida importante, è una sfida che i sindaci stanno giocando anche sul tavolo del PNRR, con tante progettualità concrete, efficaci e che stiamo già mettendo in atto nei nostri territori. È la sfida del futuro, anche perché in un periodo caratterizzato da grandi difficoltà, soprattutto da un punto di vista finanziario, il tema di accorciare i tempi e ridurre i costi di produzione dei nostri documenti è certamente centrale rispetto a quella che è un progetto di qualità di vita, di una comunità che noi vogliamo far crescere e vogliamo continuamente alzare l'asticella della qualità della vita. Vi aspetterò qui in studio anche due battute però rapide e veloci perché dobbiamo dare la linea al Tg Parlamento. Salvemini, vengo da lei perché si è parlato del PNRR, le infrastrutture sono fondamentali per il territorio. Calcolando che, ad esempio, io sono nelle Marche, quindi per arrivare anche a Lecce, penso anche ai treni, dobbiamo passare per le Marche per poi arrivare giù. E se ne parlerà proprio oggi? Sì, il tema della riduzione dei divari e del recupero del deficit infrastrutturale è uno dei grandi obiettivi del PNRR e resilienza. Infrastrutture intese come scuole, asili nido, infrastrutture idriche, redi ferroviari, ponti, ciclovie. Da cittadino del Mezzogiorno non posso che ricordare quanto questo penalizzi il rapporto fra Nord e Sud. Se si pensa che il PIL pro capite, per differenza, è fermo agli anni 70, è una grande opportunità. L'obiettivo è quello di non sprecarla e di non perderla. Ecco perché siamo molto concentrati e molto impegnati per raggiungere questo traguardo. PNRR ci danno i soldi per ridurre i divari e questo è il compito che oggi ci interessa più di ogni altra cosa. Sindaco Conte, il Presidente della Repubblica ha detto che voi avete una grande responsabilità fondamentale proprio per il territorio. Che cosa significa questo? Noi siamo chiamati quotidianamente 7 su 7 H24 a servire la nostra comunità. siamo immersi nei problemi dei nostri cittadini e a loro siamo chiamati a dar risposte con onestà, con responsabilità e con credibilità. Quindi l'appello che faccio alla politica centrale è quello di ispirarsi a questo modus operandi dei sindaci che quotidianamente si confronta con la gente perché alla gente dobbiamo dar risposte e quindi noi siamo chiamati a servire la comunità e non a servirci della politica. Grazie, grazie Salvemini, grazie Conte, che bello vedervi tutti quanti insieme, tutti i sindaci d'Italia lì per l'Assemblea Nazionale dei Comuni Italiani. Allora, buon lavoro.